Ciao a tutti ragazzi Io e Piccettino vi portiamo nel Dylan Dog del mese Il 452esimo numero Un tranquillo venerdì di paura In edicola dal 30 di aprile 2024 Ci starà per tutto il mese Quindi andate tranquilli lo trovate Prezzo 4,90 per il resto tutto solito Bonelli che più bonelli non si può Bruciamo le tappe Andiamo subito a parlare della copertina Copertina che a onore del vero a me si è già rovinata Non so come mai Adesso voi non la vedete ma è un po' sbavacchiata Non lo so eppure non ho fatto nulla di diverso dal solito Vabbè in ogni caso Copertina di cui devo spezzettare un po' la recensione Perché dico questo? Perché da una parte c'è il lavoro oggettivo Dall'altra c'è l'inserimento nella storia E anche l'inserimento nella storia Sta a doppia marcia È caotica ma mi spiego peggio Abbiate pazienza Partiamo subito dall'oggettività Dai fratelli Cestaro Che hanno fatto un lavoro della Madonna È questa scelta del nero Con questa specie di luce Che illumina tipo palco Occhio di bue Dove Occhio di bue si chiama Sì credo di sì Dove vediamo la nostra Maria Trelkowski Che ha avuto decisamente tempi migliori E vediamo Dylan di spalle Un Dylan che non sta facendo l'eroe Non sta facendo qualcosa di mistico È lì che osserva Che si trova al cospetto di questo capezzale Come qualunque essere normale Naturale E non puoi far niente E quindi sei lì Non vediamo la sua espressione Questa è una cosa molto bella Mi è piaciuta tantissimo La possiamo forse intuire appena appena Ma non la vediamo Ed è tutto molto bello Tra l'altro la scelta del colore A me il verde Dà sempre un po' questa idea Che è un po' di malato Con questo grosso nero Che quindi lo fa risaltare tanto Ma non è un nero vuoto Lo capiamo da questo computerino di fianco Che sta nel buio Cioè mi piace davvero È una copertina semplice Ma incisiva Che gioca anche secondo me Un po' sul fatto del pugno Che ti dà guardandola Trelkowski In questa situazione Quindi a livello di Lavoro svolto I Cestaro Hanno fatto un signor lavoro Davvero bella Poco da dire Davvero molto bella Molto Molto colpente Se mi passate il termine Senza bisogno di Frizzi Lazzi Ma però giocando Anche sul Cuore dei fan di Lagnati Trovando la nostra Maria Così Perciò Posso solo fare gli applausi Il problema Nasce Dalla storia Qui mischio un attimo Mi spiego peggio Perché dopo che l'hai letta La prima volta Tu ti giri e dici Ok Però Hai scelto un qualcosa Di leggermente Travisante Perché poi Non è un focus Della storia Quando la leggi Capisci che sì C'è questa cosa Della Trelkowski Ma non è un focus E quando invece La rileggi Capisci che Alla prima lettura Forse non ti sembrava Un focus Ma invece Lo diventa Se ci pensi Perché Dylan Avrà un cambio Di attitudine Proprio in virtù Della situazione Della Trelkowski Quindi è vero Che non è quello Il motore Non è quella La vicenda Ma è il punto In cui Dylan Cambia Fa il click E non dico Che la prende più seriamente Non so come spiegarvelo meglio Senza spoilerare Però fa quello Swapping Quel click mentale Che gli fa interpellare Un'altra persona E tutto Poi parte A diventare Un qualcosa di più Tra virgolette Serio Da parte di Dylan Quindi Alla fine Effettivamente Sì Non è il focus Ma è il punto Perciò La copertina Mi si rivaluta Io ho dovuto fare Tutti questi arzigogoli Per riuscire a dire Ok Questa copertina È centrata Ciò che non è centrato È il titolo Ma quello Ne parleremo poi O meglio Se c'è una centratura Io non l'ho trovata Ma quello Ne parleremo poi Quindi copertina Come capite Abbastanza particolare Oggettivamente Un bel lavoro Ma dietro Bisogna concettualmente Lavorarci Per centrarla In questo alba Io ci sono riuscito Un po' Andiamo avanti Troviamo Il nostro Classico E semplice Carinissimo Dylan Dog Horror Club Dove abbiamo Un ingresso Da parte di Barbara Baraldi Su questa Sullo humor nero Su questa ironia Anche Cattiva Su questo Come posso dire Questa satira Per certi versi In cui L'orrore L'umorismo E la paura Si uniscono E diventano Un tutt'uno È qualcosa Di molto carino Non conoscevo Questa antologia Dello humor nero Del 1940 Di André Breton Mi sa che questa È da recuperare Sembra molto interessante Insomma Diciamo che c'è Una intro Che ci fa già capire Qualcosa in più Ci farà Ci fa capire Un po' Lo stile Che prenderà Questa narrazione Stile che Effettivamente Dalla copertina Non è che diviene Proprio spontaneo Quindi anche questa È una cosa particolare Ci dà dei suggeramenti Abbastanza Particolari Abbastanza semplici Contemporaneamente La congione innocenti Non ce l'ho presente Lo ammetto Invito a cena con delitto Sì I mostri Sì Ghostbusters Sì Beetlejuice Shaun of the Dead Shaun of the Dead È la cosa È l'alba dei morti Nementi In italiano Se è quella L'ho vista Beh comunque In ogni caso Ci fa un po' Di introduzione Andando avanti Invece fa parlare Gli autori coinvolti Prima Gigi Simeoni E già parlando Di Gigi Simeoni Si può intuire Un po' Il trend della storia Perché Gigi ha un modo suo Di scrivere Che non è l'unico che ha Perché ci ha insegnato Che ne ha tanti Ma su Dylan È quello che Normalmente Stiamo vedendo di più Ecco E ci fa tutta una bella Chiacchierata Su questo discorso Soprattutto con Tenete a mente La parola Grucio Dall'altra parte Abbiamo invece Il buon Bruno Brindisi Che ci fa una chiacchierata Che se vi interessa Proprio in questo momento Sui suoi profili Sociali Facebook Vi spiega meglio Facendovi vedere Anche degli esempi Sul come ha disegnato Questa storia Con una procedura Che si chiama Craftint Che usavano I legislatori americani Su Splatter È una cosa un po' particolare Con le rettini Eccetera Se volete approfondire Sui suoi canali social Sul suo profilo Facebook Ve la spiega Vi fa anche degli esempi È molto interessante E tra l'altro Precisa Che questa storia Non è un suo ritorno In pianta stabile Su Dylan Per il momento Ma è semplicemente Un ripescaggio Di una storia Che era un po' Fermo ai box E che ora torna Quindi Per tutti coloro Che amano Bruno Brindisi Sappiate che questa È una buona occasione Per ritrovarvelo Ai disegni Ma che no Non sarà un continuo Di qualcosa Nel futuro Per il momento Se volete continuare A vedere Bruno Brindisi Dovete guardare Tex e Tex Wheeler Ragazzi cadete bene Non è che cadete male Però sappiatelo Parliamo direttamente A questo punto Dei disegni E i disegni C'è poco da dire ragazzi Sono Bruno Brindisi Sono belli Secondo me Tutto il suo procedimento Viene un filettino Sminuito Senza essere rovinato Ma un filo sminuito Dalla stampa Che in alcuni punti Secondo me Non valorizza bene bene Cioè non credo Che alcune scelte Fossero di sgrigire O innerare così tanto Secondo me In alcuni punti Se la stampa Fosse stata fatta Su un altro tipo di carta Su un altro tipo di pubblicazione Avrebbe reso molto di più Non è assolutamente brutta Cioè c'è tutto il Bruno Brindisi Che avete imparato Ad amare E conoscere Ma secondo me Ma secondo me In alcuni punti Certi sfumature Certi tratteggi Certi retini Che inserisce Vengono un po' Impastati Dal tipo di stampa Forse questa pubblicazione Non è il modo migliore Per valorizzare Questo lavoro Che ragazzi Ripeto Andate a vedere Sui suoi social Sul suo facebook Che cosa non ha fatto Per arrivare a sto lavoro Però purtroppo Temo che Sia stato un pochino Rovinato Dalla No rovinato No sminuito Ecco Dalla stampa Che non è forse Il punto migliore Di questo tipo Di pubblicazione Ok Non è brutta Non è schifo Non è che Sembra di vedere Non è che guardi le cose Non capisci Se è Dylan Cactus O una sedia Ma Forse certe finezze Si vanno un po' A perdere Nell'impasto Generico Della Stampa Se fosse stato fatto Su un lavoro Da libreria Come possono essere Alcuni tipi di ristampi O alcuni tipi di volumi Probabilmente parleremo Di tutt'altra resa Purtroppo non è così Sicuramente Ce la fa capire Abbastanza bene Però Forse Non è esattamente Ciò che Bruno Brindisi Aveva preparato In ogni caso Ragazzi Da avere Le tavole Le state vedendo Il suo gruccio È gruccio Punto È un gruccio Quasi Iconico In questo caso È molto importante Così come il suo Block E il suo Dylan Per alcuni ragazzi Ricordatevi Che in tempi moderni Alcuni Ragazzi Alcuni lettori Considerano un po' Il Dylan di Brindisi Il Dylan di riferimento Mi è capitato Di sentirmelo dire E quando sfogliate E quando sfogliate Questo album Secondo me Un po' Intuite il perché Quindi ragazzi Davvero Bentornato Anche solo Temporaneamente Caro Bruno Brindisi Nei nostri Lidi di Lagnati Veniamo invece Alla storia Di Gigi Simeoni Allora Qui mi contraddico Un attimo A me piace Lo stile di Simeoni Anche a livello Di disegno Mi sarebbe piaciuto Non me ne voglio Brindisi Vedere proprio Un unicum Di Gigi Simeoni Proprio perché A me piace Il suo connubio Disegno Testi Soprattutto Quando le storie Hanno questo tipo Di Di impostazione Quella più Horror comedy Un po' All'acqua di rose Per certi versi Ci sarebbe stato bene Quindi Non me ne voglio Brindisi Ma mi sarebbe piaciuto Vedere un unicum Di Gigi Simeoni Gigi Simeoni Che per me Ce la scrive Soltanto sta storia Allora Partiamo Dal punto iniziale Un tranquillo Venerdì di paura Giuro Giuro Scusatemi Io lancio l'appello Non ho capito Il senso del titolo Lo ammetto Cioè Che cosa c'entra Il venerdì di paura Perché un tranquillo Venerdì di paura Cioè Sembra Un po' Un titolo Quelli un po' Strillacchioni No Da Da commedie anni 80 Quando non so Il Il titolo originale americano Era Mega Power Show 2000 E poi in italiano Diventava Il weekend Dello zio del cugino Che incatenavi in cantina Cioè Che non c'entrava niente Ecco Mi dà un po' Quell'idea Magari è proprio così Non lo so Io però Onestamente Il senso del titolo Non l'ho colto Se qualcuno l'ha colto Ha voglia di intervenire Me lo dica Perché io ammetto Ammetto Alza le mani Non ho capito E questo Secondo me È Il primo Dei piccoli Tasselli Problematici Che in realtà È l'unico Col punto di domanda Tutti gli altri Per me Si spiegano La storia Beh la storia È semplicissima Parte Da Una cosa Che abbiamo visto Triglianzoni Di volte Ovvero Un problema Col maggiolino Di Dylan E dato che Gigi Simeone È stato colui Che ha dato Un Diciamo Un'accezione Da personaggio Della serie Anche al maggiolone Secondo me Lui è la persona Adatta a parlare Di quella povera macchina Quella povera macchina Che diventa Passatemi il termine Motore della storia Perché Essendo quella macchina Che si pianta Nel posto sbagliato Per il motivo più semplice Problemi di benzina Se non gliela metti Non va Mistica Ci troviamo A Keswich Keswich È il posto In cui vive Terese Che è una Zia di Grucio Voi sapete Che molto spesso Grucio Soprattutto ai tempi d'oro Di Sclavia A volte Veniva anche messo fuori gioco Perché andava a trovare Qualche parente Oppure parlava Della cosiddetta zia Eccetera E questa volta Ne conosciamo una Siamo andati a conoscere Questa zia di Grucio In questo paesino Lei ha questa Pensione Che non sta andando Benissimo E purtroppo L'unico ospite Si suicida Stile Kurt Cobain Purtroppo Finisce lì Partono queste indagini Quindi questo Bob Smithy Che è il poliziotto di paese Che è un po' Poco professionale Mettiamola così E' molto ostile Al buon Dylan Pim pum pam E finisce che Dylan Si porta questa Questa donna A casa Con lui Perché insomma Anche lei Ha i suoi perché E soprattutto Non può stare da sola Venendo con lei Vediamo un po' Questo approccio E piano piano Scopriamo un po' Di retroscena Di questa Teresa Scopriremo che Vabbè Al di là del fatto Che sia Sopportabile Come un'invasione Di cimici Fondamentalmente Per il modo di fare Per quello che fa Pensate che Prende su il maggiore Di là Per andare a fare la spesa Gli prepara le colazioni Gli sposta Tutti i mostri Dello studio Nello sgabuzzino Per fare pulizia Ragazzi È una roba Io probabilmente Sarei impazzito In un quarto d'ora E Gruccio Che tra virgolette Le va un po' dietro La difende La porta Sempre in una condizione Se ci pensate Mentre Di essere Non dico la vittima Però comunque Quella da Da seguire Da perdonare Mi piace questo atteggiamento Anche protettivo Che ha Gruccio Nei confronti Di Teresa Però Nel frattempo Ci troviamo Anche A sentir parlare Di questa maledizione Della sfortuna Del fatto che Si è infestato Il posto Dove vive Teresa Che abbia questa maledizione E pian piano Scopriamo Che È una vedovella Ben poco allegra Ma tanto vedovosa Visto che ne ha Più di uno Sulla coscienza E tutte le volte Vediamo come Le morti Ne scritte da Teresa Sono culmine di sfiga Dylan alla fine In un qualche modo Decide di farsi Di farsi dare una mano E dice vabbè Dai facciamo così Ti porto la medium E vada A Trelkowski Trelkowski Che dura Poche pagine E qui c'è Il punto di svolta Proprio queste pagine Giustificano la copertina Perché? Perché Fino a che Non succede Il patatrack Con la Trelkowski Che quindi Non succede Che la Trelkowski Ce la ritroviamo A metà albo Tra la vita E la morte Non vi spiegherò Il perché Per come Lo leggerete Dylan ha un atteggiamento Abbastanza Quasi perculatorio Con Teresa C'è un punto Ne può più Si la vede un po' Come sta macchietta Che c'ha tanta sfiga Che si è autoconvinta E quindi voleva Dargli il contentino C'è poveretta Di qui Poveretta di là Forse è anche un po' Influenzato dal fatto Che sia la zia di Grucio Dopo Che La Trelkowski Ha questo Ricovero Però Vi spiego Come mai finisce lì Ma Dylan cambia Dylan cambia E decide Che deve Comunque Indagare E capire Che cosa è successo Perché è successo Questo Perché è successo Questo Decide di tirar su Un personaggio Che non vedevamo Da tanto tempo Dal passo dell'angelo Si chiama Se non sbaglio Nel numero 368 Di Dylan Cioè Maggie Maggie è comunque Una sensitiva All'epoca Si parlava di danza È un numero Sempre scritto Forse anche disegnato Non mi ricordo Da Gigi Simeoni Viene ripescata Questa ragazza Tra l'altro Un bel ripescaggio Che ci sta Rinfresca un po' Anche ripescaggi Di personaggi Dilaniati E fondamentalmente Anche lei Fa la medium Adesso Cioè viene Presa da Dylan Per questa sua capacità Vi chiede questa cosa Lei si bulla un po' tutta È la prima Prima volta Faccio la consulente L'indagatore dell'incomo Insomma è divertente Mi piacciono Questi Siparietti Da lì si costruisce Da lì poi si costruisce Tutta l'indagine E si arriva in fondo Un infondo Che alla prima lettura Ci rimani Cioè dice Ok Tutto qui Cioè dice Ok c'è tutta questa cosa Per chiuderla Nella Alla Don Matteo Alla Don Fumino Alla Don Tonino Cioè una roba molto Molto Don Tra l'altro Ho tirato fuori Vabbè Comunque Molto da Telefilm Rai Con la vedovella Allegra Tanto no Che tanto Allegra Non è E alla fine Cioè quando lo chiudi Ci rimani anche un po' Tutta sta cosa Per poi Tornare a quel sospetto Che per tutto L'inizio dell'albo Hai Perché fondamentalmente Poi ti viene Sto sospetto No Ma nella maniera Più canonica Più classica È proprio la cosa Che puoi trovare Sulla Rai O su Mediaset al pomeriggio Il telefilmino Amichevole Che ti porta A questo finale Da signore in giallo Ecco E quindi Alla fine Prima lettura Dice ok Bello tutto Però così Sì ragazzi Così Quando lo rileggete Io l'ho fatto Poi me lo sono rileggetto Ma si incastra perfetto Cioè È proprio La banalità del male Tra virgolette Cioè Proprio Quella cosa Che viene fatta Per un motivo Veniale Mossa Nella maniera Più umana Possibile Con quel pizzichino Di sovranaturale Che serve A Inserire Dylan Ma anche a dare Quel gusto Di indagine Che poi Dylan Fa davvero Perché Dylan Indagherà E la cosa Che gli permetterà Di entrare In quel mood La vedremo Nelle primissime Pagine Cioè Fantastica Sta cosa E quindi Alla fine Dice cacchio Io ho letto Una storia Semplice Ma non Semplicistica In cui Tutti i pezzi Si incastrano Ma già da subito Cioè A un certo punto Potevi fare Alla tenente Colombo Davvero Cioè Eravamo quasi A quel livello È stata proprio Divertente Alla fine E Con quel tono Che Gigi Simeone Riesce a dare I personaggi Memorabile D'antologia Il come Gruccio Memorizza Le persone Sul cellulare Io voglio sapere Cosa ha scritto Per Lord Wells Su quella rubrica Prima o poi Dovete dirmi Non è maledetti E comunque È proprio quello Il bello C'è Questo umorismo Questa tragedia Di fondo Perché Teresa È un personaggio Anche abbastanza tragico Se andate poi Sia prima Sia dopo Non posso andare oltre Se non faccio spoiler Però ragazzi Davvero È una storia Che Ok Diciamolo subito Non credo Vedremo mai Con la variant Covered in Frank Miller In In Libreria cartonata In Mega Deluxe Non penso Lo vedremo mai Una cosa così Ma non è neanche Il suo scopo C'è il suo scopo È quello di farti Passare una lettura Gradevole Divertente Non è anche Eccessivamente Impegnata Tragica Da doverti strappare I bulbi oculari Dalle lacrime Ma semplicemente Darti una lettura Comedi Nera Come può darti Una signora in giallo Un qualcosa Da famiglia Fondamentalmente A tutti noi Quando la riguardi E la rileggi Sotto quest'ottica Tu ti rendi conto Che tu hai 4 euro 90 Te li sei goduti A me è piaciuta Tra l'altro Ripeto Quello che ho già detto In più In più occasioni Cioè che Gigi Simeoni Sa giocare Con lo humor E con Gruccio In una maniera Incredibile Perché riesce Perché riesce a renderlo Personaggio vero E a me questa cosa È proprio Piaciuta Un sacco E mi è piaciuto Anche tanto Il lato umano Di Gruccio Perché Therese Nonostante tutto Gruccio Le vuole bene E si vede Dal suo atteggiamento Cioè vediamo Anche una parte Di lato umano Che normalmente Con tanti Non viene mai visto Se no Quando ci sono di mezzo Di l'anoblocco I personaggi principali Come se quasi Fosse un atto dovuto Da parte del nostro Buffone col baffone È per quello Che davvero Lo considero Un albo Probabilmente Non diventerà L'instant classic Non sarà la cosa Che tutti Vorranno Rileggere 500 volte Ma nel momento In cui ci metterete Le mani E lo leggerete Vi ci divertirete Punto Ovvio Se state qui Ad aspettare Il mega capolavoro Che vi strapperà Il cuore Nei secoli a venire Forse questa lettura Non è per voi Se invece volete Un Dylan Umano Che indaga E ci si muove In un ambiente Che quasi è Canonico e classico Per tutti noi Beh ce l'avete Mi resta sempre Il dubbio Che non ho capito Perché si chiama Un tranquillo Venerdì di paura Questo è il dubbio Più grosso dell'albo Per il resto Albo di entertainment Che fa esattamente Quello che deve fare Vi intrattiene In maniera Semplice Ma non semplicistica Intelligente E divertente Di più io credo Che non gli si possa Chiedere A Dylan Dog Nel 2024 PS La lancio lì Fate scrivere Un tutto Grucio A Gigi Simeoni Davvero Fateglielo scrivere Me ne prendo E le compro Io le copie Ma fateglielo scrivere E magari anche Disegnare Vediamo Va bene Al momento però Ragazzi In edicola Trovate questo E io vi consiglio Di spendere 5 euro Per farvi Una sonora Horror comedy Divertente Che Vi intratterrà Questo ve lo fa Sicuro Divertente Divertente